Un uomo di 54 anni è morto a Sorbano del Giudice, schiacciato da un albero caduto per il violento nubifraggio che si è abbattuto su tutta la provincia poco dopo le 11. La vittima, Daniele Giorgi, è stata ritrovata senza vita in un campo di proprietà privata da alcuni vicini, sotto il peso di un grande ramo di pioppo. Secondo le ricostruzioni, l'uomo intento a tagliare con la motosega un albero mentre infuriava la tempesta, è stato colpito mortalmente da un'altra pianta, crollata per il nubifraggio. Inutili soccorsi per il 54enne che nella vita lavorava come agricoltore, mentre era intento a potare l'arbusto caduto nel campo la sera prima a causa delle forti raffiche di vento, l'uomo è stato centrato alla testa da un altro albero e per lui non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono sopraggiunti un'ambulanza della misericordia di Lucca, i vigili del fuoco e la polizia per eseguire i rilievi e ricostruire la dinamica dell'accaduto.